E' un'altra cosa! E' un'altra cosa! Mamma mia, Doc! Sempre in gruppo insieme, meno male! Ce lo sai! Ce lo sai! Non state in mezzo alla stanza, sennò prendete gli stack anche dell'altro boss Tornadi Pallette da portare in cordo Socchettini piccoli Tornadi Palle che arrivano sul boss Scrivare Pronti con il socc grosso qua Qual'è che sudiscono i due guzzi? Tutto il boss Socchettini Via dal boss Roar cambio Andate sull'altro ar Urla Luca Tornadi Socchettini Pallette da portare al muro Via! Tornadi Tornadi Chivare Si chiudono sul boss Socchettini Grosso Darkness Nico Via! Cambio Quanto ha sempre 100? Rosso Tornadi Fasa 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 Attivare Attivare tutto Bombe lontane Ci raggruppiamo in mezzo Parto io Iroh? Parti tu Eroh? Bombe fuori Bombe fuori Estivare le palline Tornadi Tornadi Soc 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 Via da davanti al boss Ok Ok Soc Grosso Pronti Qua Tornadi In mezzo Dentro Guardiamo da l'altra parte Guardiamo da l'altra parte Edro Non davanti Dianners via davanti al boss duo forza fuori urla radovan urla zembra urla radovan via davanti al boss soft cross qua qui dentro dot roar via puto trample via puto trample Grazie a tutti.